ok benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video questa è l'ultima parte del box di x e y finora abbiamo trovato solo tre holo e tre holo vabbè tre ex solo tre ex ok vediamo di fare meglio in queste ultime bustine e sono usciti ah ma già blusso l'avevi salvato e vabbè 1 3 1 2 allora on edge rayor energy aqua scatterback pampur cartello rosso ma inquadriamo bene perchè perchè inquietante cartello rosso muscol banda dodrio megaball reverse e malamar vabbè allora mega venusau c'è un'energia folletta è la prima si ok 1 3 1 2 allora energia folletto schitti venipid zoroa widdle lettera del prof spiupa tonico evolutivo shan reverse e veltal che ancora non c'era ho trovato tre trainer più una foil più xxx in questa bustina no ivelta vabbè ivelta ehhh mega blast toys ma non abbiamo ancora trovato la full art io la full art ho la shine se trovi la shine 3 1 2 0 non ce n'è allora stereo si energia psico questa non l'avevo trovata invece forse no no questa no sprizzi ladybug inc wryxen danceplayers pattini uh bella questa energia in colore doppia reverse con questa vabbè wigglytuff con l'attacco parimpanpum 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 ok eccoci qui ma questa è ok scusa svelta scusa 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 ci trovo sei ex 3 1 c'è la boccia ok ownage slugma jigglypuff io pumkabu todo ilumais muscolbanda crocorock forza amuleto reverse e arbor c'è sto trovando un sacco di strumento reverse si ok scusa ok ok e sono bello st 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 vabbè ok la rabbia la rabbia la la voglia di vincere sponsorizziamo magic perchè mi pare giusto ok l'abbiamo flashling ponyard spoink skitty energia folletto vulbit shana wirlipit stereo e bishop bellissimo bello veramente ma un po' te la capitale che bustina miglia questo allora la migliora è quella mega venusor con chi vuoi curare di riso sernes univelto sernes 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 sprizzi ancora taylo chest pin voltorb destino appagato se esce quando mora se l'avversario lancia maeta se esce danno fennekin tonico evolutivo dunce spares oliviero fortissimo inizio uno dei tuoi poca c'è un revitalizzante max in testa guardalo si si però questo è il platon reverse e beatle fortissimo un po' di beatle si no questo non ancora lancia 3 volte la minata questo attacco e il secondo le ho 40 per e mi pare lanci 3 volte e se esce tutte 3 volte la testa ti prevedi tutte le cose dico daniele ok possibile si si vabbè proviamo eh qua c'è qualcosa forse è una ex forse sei 10 carte si si no vero c'è però è una ex io voglio la pullart allora allora skiddo voltorb sandal sandalo funnel by froki quilladin tonico evolutivo oliviero chestpin eh vabbè 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 almeno la quarta vabbè almeno la quarta vabbè un ex in ogni parte però no dai ah diventa questo non è così male questo non è così male no ma non è così male sento bene mi ricordavo di tuoi mi ricordavo proprio indegno come il benzo non si è niente di normale mh però niente full art ancora i dubbi allora spoink no no c'è sicuro no biduc rayon widow scatterbug forza amuleto professor platan super pozione incai reverse e taurs nell'ultima ci troviamo una holo incai colabilità forse si io pure l'ho pensato incai colabilità si alti ma non ho idea ma qual'è praticamente quando è confuso si evolve se mai no si confonde da solo con l'attato fa tipo 10 che è confuso ah ok questo l'ho salvato 1 2 3 1 2 c'è la full art ah quello l'ho detto oh ma che curioso è i finti trick diciamo ok dai xernius video truccato confermate anche voi si si diglett standard frogy lilipop lediva crocorock recutate teamflare breaksen rayorn ora non c'è niente c'è c'è oh è figo quindi in una parte abbiamo trovato sia blast toys x full art che mega blast toys quindi lo puoi usare si si ormai con idrobomba best pool x si si giapponese ok quindi dai tutto sommato non è andato dai ti lamenti ah no 5 x senza holo però una mega una mega senza holo anche tu senza holo ok quindi xernius buono si dai non abbiamo trovato emolga quindi ottimo aspetta però non è tanto ruvido no vero è strano vabbè è sempre una full art ok quindi con questo si conclude il video del dell'apertura del box del tuo primo box del mio primo box e mi raccomando positivo si si positivo vabbè iscrivetevi al canale del tuo colega esatto vi raccomando anche lui ha aperto il box e andate a vedere il video e niente spero che vi siano piaciuti questi video questo è tutto alla prossima da Charm ciao a tutti ragazzi ciao a tutti